Ciao e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e oggi faremo insieme gli sneakers vegani. E' una ricetta facilissima senza cottura, avremo bisogno solo di 5 ingredienti. Useremo per la base la farina di cocco assieme a del burro d'arachidi e dei datteri. Faremo la pasta di datteri che ci servirà sia per la base sia per la parte diciamo lo strato caramelloso e praticamente tra l'altro questa salsina, questa cremina può essere usata come dolcificante per tantissime ricette. Secondo me è uno dei dolcificanti più sani che si possa usare nella preparazione dei dolci perché alla fine il dattero è un frutto. Poi useremo le arachidi per dare quel tocco di crunchiness tipico dello sneakers e poi ricopriremo tutto di cioccolato fondente. Io ho scelto questo qua che è della copp e vegano non ha ingredienti derivanti da animali. Ovviamente non è una ricetta leggerissima però sicuramente molto più sana dello sneakers originale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.